Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video ci troviamo su fifa 17 e stiamo spacchettando 23.500 fifa points siamo in compagnia di Matteo bella ragazzi Stefano, Stelio, Davide e Elia allora ci stanno i pacchetti da 50.000 eh sì questa cosa la fanno i soldi al vento e i pacchetti da 25.000 iniziamo con i pacchetti una ciocca vabbè un bacchetto cioè sto spacchettando io pure se non vediamo non iniziate a mettersi un bacchetto da 1.000 fifa points subito la cosa che sceglie è buono, è buono, è buono ATT, Aduriz giuro che se era d'ora e se c'è quello normale invece del costo dell'anno pure se è impossibile Aduriz walcott no no mettiamo tutti al club aspetta invia tutto al club secondo bacchetto da 50.000 credit sto dicendo i giocatori importanti che manderemo al club poi li venderemo ovviamente se è per guadagnare tempo vediamo un po' non è walk out non è walk out è buono lo stesso è buono lo stesso martine avevo visto la scia a blu pensavo che ero manda tutta la lista da sferire eh sì cioè no attenzione terzo pacchetto speriamo walk out e niente niente walk out niente walk out ma da dove si fa a vederlo a capire schippa schippa ehm carvaglio sì William carvaglio scarta tutto dimostra se c'è qualcosa 83 e il papu penultimo pacchetto da 50.000 crediti no non posso sbagliare vai walk out walk out niente niente walk out è buono ci sta 85-86 ma andando è buono è buono è buono no aspettate perché mo ci sta la sfida con quelli 84 iniziamo il giro con i pacchetti da 25.000 25.000 crediti ok a me niente non vi sbagliate con i crediti ovviamente a me niente diamo un po' che c'è c'è il crown oh oh unif unif no no è buono capito unif 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 attenzione secondo pacchetto da 25.000 crediti walk out ragazzi no niente schippa schippa non è niente niente ragazzi passere uno trappotti vai 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 perché il dottore come da scelta sta cosa vediamo un po' speriamo un altro if schippa 82-83 si giusto sacco sacco perché andiamo con calma con calma posso schippa subito si schippa subito schippa subito non è walk out non è walk out la bessa no davidino vediamo se ci faccio walk out non ci faccio niente mi spiega di farlo vabbè ho già unif ci può stare niente walk out si spera pure in un giocatore della squadra dell'anno come stonzi ancora ragazzi è una persecuzione stonzi stonzi e di 5 che mancano e per dopo schippa qua non ci sa niente non se ne vanno è vero un'altra ragazzi no 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 tocca a Matteo tocca a Matteo ma non è l'ultimo aiuto no no assolutamente ho fatto Matteo eh ho capito ma rimangono 5 mi fai aprire l'ultimo Matteo e a te l'ultimo da l'ultimo chi era? vai va tu no no io apro l'ultimo tu aprite l'ultimo ehi e lo stondo è tornato signori ma è solo la forma fisica ma è solo la forma fisica e guadagnare vai sperando un botto no niente schippate il pacchetto non esce niente oh non ci sto inci niente no sta giù ferme fisica o un walk out di merda non esce e niente walk out aspettiamo quello da oh c'è uscito l'if ah quello da castro chi è? so schifo apri tu e poi apri io no apri ma tu prima tu penultimo pacchetto e niente ma ci manda ieri ma pallero quando gli da fastidio quando si schippano sti cazzo di pacchetti poi cominciamo a vendere giratevi giratevi no no è te è un macello secondo me è un macello vabbè stanno sempre pacchetti da 15.000 walk out non è si prendono un if show show di merda e il show costa 2-3.000 allora siamo tornati questo qua ci avremo 10 pacchetti da 15.000 per cercare di scurare un altro po' niente qua scrive vabbè andate sul canale di stereo che abbiamo dato un walk out dico solo per argentino è buono buono questo qua 84 8.000 7.000 credi inviare la lista inviare la lista pure un po' di più triangolo si ci siamo rifatti in tutto 500 30.000 credit attenzione terzo pacchetto speriamo un walk out invece no niente è buono è buono è buono è buono quanto pacchetto qua c'esce un info sicuro no è grosso vabbè non si sa morata costa no non costa i argenti sono quelli che valgono di più è il vendere esce oh e sei argento vediamo un po' non è scelto uno forte sicuro però dici quando eh per cui vai proviamo quanti pacchetti cioè c'è c'è un pacchetto è buono un culo questo qua è un 85 no ma si 84 guardi guardi è acqua e braide 4 triangolo si mandati alla lista andati alla lista rulli rulli ancora niente 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 medel ma no scchia pure downgrade scato che merda spoiler eh lo taglie premio lo taglie maximo no nastasic ma io manco solo a mille fifa points na merda pacchetta dai lo scolatino finale niente niente ancora niente meglio vendere il film mille fifa points volare eh 500 su poi che lo fa e poi facciamo così fatta per tu aspetta una pezzolata così più tagli facciamo meglio è no 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 ifa ifa col cozzo manca l'ultimo aspetta aspetta no no fa la prossima fa la prossima ultimo pacchetto da 100 fifa points e poi ok if if manco bello 5 mila e quindi abbiamo trovato belli un if e abbiamo spacchettato 15 mila fifa points quindi un equivalente 120 euro più o meno quindi lasciate 20 like per questo video 25 like quindi da tutti con noi è tutto è bella ragazzi bella